Ciao io sono Elia Calò, ben ritrovato al giardino sotto il naso, ci troviamo qui nel Bar Mita e siamo pronti per un nuovo interessante episodio, in questo video ti voglio parlare di come fare un liquore alle ciliegie con base vino fatto in casa chiaramente. Io sono un bartender professionista, appassionato e studioso di erbe spontanee, ideatore di amaro satiro, liquore pineta e vermouth mita, ma ora andiamo a scoprire come creare il nostro liquore alle ciliegie. Bene, prima di cominciare mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella e perché ho deciso di registrare questo video? Perché intanto c'è un po' di confusione fra sherry e cherry liqueur e lo sherry è appunto un vino che viene prodotto, è un vino fortificato, un vino liquoroso che viene prodotto in Spagna, ok? E quella è una cosa, diciamo al pari dello sherry c'è il Porto, Marsala, Madera, insomma è una categoria di vini diciamo speciali, mentre in questo caso andremo a fare appunto un liquore con le ciliegie che in inglese si chiamano cherry, quindi c'è un po' di confusione fra sherry e cherry e spero di averla chiarita. Abbiamo fatto un po' di ricerche su internet e abbiamo visto che ci sono veramente tante versioni, tante tante ricette e chiaramente siamo in un periodo diciamo a inizio estate dove le ciliegie sono abbondanti e quindi probabilmente ti sarai chiesto anche tu come posso utilizzarle perché mangiarle tutte poi alla fine ti viene mal di pancia come è successo alla Bettina e quindi magari è la prima opzione è quella di crearci un liquore e ora puoi scegliere se utilizzare come infusione base di infusione dell'alcol o del brandy, va uguale, poi puoi scegliere di diluire appunto l'alcol come ti farò vedere adesso con dell'acqua o con come abbiamo scelto noi con del vino e tutto qua quindi di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di alcol in questo caso è già alcol infuso però vedrai il processo fra poco, del vino in questo caso abbiamo scelto del vino primitivo amabile quindi leggermente più dolce, dello sciroppo di zucchero neutro e un 2 a 1 e poi abbiamo delle ciliegie che sono chiaramente già state infuse quindi io per facilitarti un pochino il compito ti darò le proporzioni per preparare due litri di liquore alle ciliegie fatto in casa perché noi chiaramente ne abbiamo preparato un pochino di più però ho pensato che secondo me in una casa insomma un paio di bottiglie da litro possono essere tranquillamente fatte e consumate. Stai per vedere due piccoli spezzoni, ci siamo divisi i compiti con la Betty, la Betty le ha raccolte e io le ho lavorate ok così ci siamo ci siamo bilanciati in famiglia quindi guardati questi due video e a te Betty. Ciao ragazzi siamo qui ad Acquaviva delle Fonti a raccogliere le ciliegie con Nico mio padre ed Eustacchio con una C. Con queste belle ciliegie chiaramente ci siamo fatti una bella scorpacciata però poi una parte le abbiamo denocciolate come stai vedendo in questo piccolo video. bene in questa fase dopo aver selezionato le ciliegie più mature le stiamo denocciolando con questo denocciolatore insomma e niente adesso andremo a preparare sto tenendo comunque i semi da parte perché una parte andremo utilizzare nella nostra preparazione. Quindi ora prendi carta e penna e scriviti questa ricetta abbiamo messo per due litri totali di liquore alla ciliegia abbiamo messo 200 grammi di ciliegie denocciolate 500 ml di alcol buon gusto quello a 96 gradi e un litro e due di vino rosso in questo caso abbiamo usato del primitivo amabile quindi leggermente più dolce e di Sava e che una zona insomma la zona del Tarantino e poi 200 ml di sciroppo di zucchero 2 a 1 lo sciroppo di zucchero io ti consiglio di poi utilizzarlo probabilmente ne metterò un pochino di meno quindi ti consiglio di metterlo gradualmente e di assaggiarlo e poi magari aggiungere un pochino di più eventualmente ok quindi il primo passaggio da fare è mettere le ciliegie denocciolate io in realtà ho aggiunto anche qualche piccolo nocciolo all'interno dell'alcol ho messo le ciliegie in un barattolo e ho aggiunto dell'alcol dopodiché le ho lasciate in infusione per due settimane girandole tutti i giorni dopodiché dopo due settimane le ho filtrate quindi con questo super bag con questo o con un collino maglie strette scegli tu queste ciliegie perché non le ho buttate perché queste sono ciliegie sotto spirito quindi contengono ancora alcol e si conserveranno io andrò a metterle in un barattolino con del vino dentro e andremo a mangiare insomma come diciamo dessert diciamo così quindi le ho filtrate questo è il risultato ottenuto 600 ml di liquido perché 500 erano di alcol più le ciliegie chiaramente hanno rilasciato dell'acqua contenuta all'interno appunto della ciliegia stessa e siamo arrivati a 600 ml dopodiché aggiungerò un litro e due di vino rosso e circa 200 ml di sciroppo di zucchero basta adesso magicamente comparirà un barattolo eccoci qua mamma mia sono un mago e quindi andremo semplicemente ragazzi a aggiungere i vari ingredienti e andremo a micelare le puoi scegliere di metterli io ho scelto questo qui con il rubinetto perché per dare diciamo nei nostri quando facciamo i nostri bar catering e quant'altro per utilizzare un contenitore diverso chiaramente puoi scegliere di mettere magari in una bottiglia da liquore come preferisci tu vado a mettere i due ingredienti insieme ed eccoci qua dopodiché andrò ad aggiungerci circa in questo caso ne aggiungerò circa 150 ml di zucchero se ti stai chiedendo che gradazione alcolica è bella domanda infatti su internet abbiamo visto che quasi nessuno parla di gradazione alcolica e chiaramente rimaniamo sempre su un qualcosa di un po' approssimativo sotto certi punti di vista però dal calcolo che abbiamo fatto noi stiamo abbiamo avremo a che fare con un liquore di circa 30 fra i 30 e i 35 gradi alcolici anche perché insomma c'è le ciliegie che rilasciano dell'acqua insomma quindi un po' chiaramente approssimativo ma rimane una preparazione fatta in casa e quindi un po' di approssimazione consentimela insomma andrò ad aggiungere 150 in questo caso andrò a mescolare il tutto e andrò a tararlo per il mio gusto considerando che poi però molto probabilmente questo questo liquore andrò ad utilizzarlo in miscelazione quindi ci sta ancora un po' di zucchero quindi andrò ad aggiungere altri 50 grammi quindi andrò a completare con i miei 200 ml di sciroppo di zucchero detto questo siamo pronti e chiaramente quanto dura questo dura tantissimo non ha perché comunque l'alcol fungerà da conservante andremo a mettergli un coperchio la data di produzione con il nome del liquore che abbiamo insomma in questione e ti consiglio di conservarlo comunque in un luogo possibilmente buio e asciutto e puoi conservarlo anche puoi tenerlo anche in frigo tranquillamente e in miscelazione si comporta comunque molto bene questo allungato con un pochino di gassosa per esempio potrebbe essere un ottimo drink nissetante e facile da bere insomma durante le giornate estive bene ci siamo abbiamo ottenuto quindi il nostro cherry liquor e le nostre ciliegie sotto vino utili per decorazioni o da mangiare così come dessert se questo video ti è piaciuto mi raccomando un bel pollice all'insù commenta e condividi con i tuoi amici in questo modo mi darai la possibilità di continuare a crescere a darti maggiore contenuto gratuito approfitta dei commenti per scrivermi se c'è un argomento che magari vorresti approfondire e mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella in questo modo rimarrai sempre aggiornato e non ti perderai neanche un episodio non resta altro che dirci ci vediamo presto anzi prestissimo alla prossima ciao